Un atleta in rampa di lancio e una forte, suggestiva, passione per le auto, stiamo parlando di Marvin Vettori, star della MMA, che ama guidare delle belle auto, eccole un atleta in rampa Marvin Vettori, che per chi non fosse particolarmente esperto di sport fisici e da lotta, è un noto campione della disciplina MMA, categoria molto in voga nel settore, Marvin Vettori. Dal numero uno del nostro paese nella disciplina di MMA c'è da aspettarsi una certa competenza in fatto di fisicità e atletismo, ma, a volte, anche delle quattro ruote, è il dal numero uno del in fatto di auto, lui, in particolare, sa davvero e ne ha scelta una macchina che viene definita una specie di non plus ultra tra le di che auto si tratta. Dai fasti della disciplina UFC fino al mondo delle auto di lusso e sportive, il passaggio è rapido, come le accelerazioni della sua auto, e Marvin Vettori di che auto si tratta. Vediamo, dunque, la sua meravigliosa qua. Per chi non conoscesse l'UFC, si tratta della Ultimate Fighting Championship, la più celebre struttura di arti marziali cosiddette miste, e Marvin Vettori è come. E non solo in quello, anche al Marvin Vettori, artista top delle marziali miste, ha esordito nel 2012 in questa disciplina e ha fatto davvero grandi passi in quella, ma altrettanti ne ha fatti alla guida delle belle auto. La sua vettura preferita è una Porsche Panamera, e chi l'ha guidata o, se non altro, anche solo vista, sa davvero quanta bellezza ci sia in questa vettura a dir poco fa. Una delle auto più riuscite dalla Porsche, ha trasformato un intero segmento di mercato. Vivi sezionandola in tutte le sue parti, si scopre come mai questa macchina sia davvero così tanto piaciuta ad un giovane atleta in rampa di lancio come Marvin Vettori. Nel particolare, in questo caso si parla della sport turismo che viene definita in modo specifico dagli scarichi, 4, appena oltre la carrozzeria.